Salute digitale sembrano così lontane e in realtà sono molto vicine da ogni punto di vista ed era arrivato il momento di discuterne, di entrare nel merito di questo mondo che in fondo riguarda davvero tutti noi, anzi altro che in fondo, è qualcosa che ci tocca che a causa o grazie all'intelligenza artificiale oggi ci permette di raggiungere, di ottenere obiettivi che erano impensabili fino a tempo fa, ma allo stesso tempo poi c'è il tema di Google medico e quindi c'è chi cerca e alla fine si fa male perché al posto di rivolgersi ed esperti si rivolge alla ricerca online che ovviamente sappiamo ha risposte di ogni tipo, comprese quelle sbagliate insomma un grande mondo, un grande mondo che oggi affrontiamo insieme ai nostri ospiti allora, Roberta Rossini, primario di cardiologia dell'ospedale Santa Croce e Cale di Cuneo Mauro Moruzzi, professore esperto di Health Paolo Nucci, professore ordinario dell'Università degli Studi di Milano e Giuseppe Petrella, professore e presidente dell'Istituto dei Tumori CROB ma prima la sigla Bene, allora iniziamo come sempre con il punto di vista in qualche modo del padrone di casa cioè il sottosegretario all'innovazione tecnologica Alessio Butti All'inizio del secolo scorso l'aspettativa media di vita di un abitante di un paese industrializzato non superava i 60 anni oggi raggiunge gli 81 per gli uomini e oltre 83 per le donne è merito tra le altre cose anche della tecnologia che ha permesso di migliorare l'assistenza sanitaria e sperimentare con successo anche nuove cure La tecnologia digitale è un alleato prezioso per monitorare il nostro stato di salute ed è sempre su un supporto digitale sicuro che stanno transitando i dati sanitari degli italiani La tecnologia consente ai nostri ospedali e al personale sanitario di gestire più efficacemente il ciclo di assistenza e di gestione dei degenti non è una piccola rivoluzione è un cambio di paradigma cruciale proprio per questo la relazione tra salute, sanità, ricerca sanitaria e tecnologia è fondamentale per capire come evolve la nostra società Eh sì, l'umano tra l'altro è sempre al centro il proprietario di umano Paolo Nucci nel suo libro Chi ci curerà? Ha proposto di insistere in direzione di strutture sanitarie aperte 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per gestire tutto, insomma, la cronicità l'assistenza ai pazienti anche non in emergenza e questo dal punto di vista di un paziente è tanta roba ma si può fare? Mi catturi tutte quante, insomma, le indisponibilità dei colleghi medici il problema siamo noi siamo noi medici non siamo tutti disponibili ad essere davvero H24 a disposizione del paziente però in realtà gli strumenti sono quelli la domanda è enorme quindi se non accettiamo anche noi di fare un piccolo sacrificio orario e di dedicarci anche in ore che sono tra l'altro quelle nelle quali generalmente insomma non si lavora io temo che non ce la faremo e la ragione per cui io sottolineavo questa necessità è che le liste d'attesa ci sono le difficoltà oggettive anche di raggiungere gli ospedali e tutte le attrezzature che sono disponibili in ospedale pensa per esempio alle risonanze magnetiche dovrebbero davvero andare avanti 24 ore su 24 anche perché le risorse sono quelle quindi l'idea era semplicemente quella di dire guardate che non è detto che l'ospedale debba rimanere debba rimanere aperto solo le canoniche 8 ore di lavoro anche perché è vero che c'è la robotica è vero che c'è il digitale ma alla fine ci siamo noi umani cioè anche dal punto di vista dei medici come dire Roberta Rossini lei ha sottolineato più volte l'importanza dell'inclusione come driver fondamentale della sanità digitale e quindi questo secondo lei se è corretto ci dovrebbe aiutare a migliorare l'accesso la qualità dei servizi eccetera come potrebbe funzionare? cosa potremmo migliorare e come? ma allora sicuramente è un'opportunità e quindi c'è bisogno ci sono degli unmade needs cioè delle situazioni ancora in cui c'è molto da lavorare la tecnologia è un'opportunità va governata e deve dare delle risposte ai pazienti però quindi nella nostra esperienza posso dire che l'ospedale ad esempio non è il miglior posto dove un paziente può stare perché se un paziente può stare a casa sua chiaramente quello è il massimo allora il paziente scompensato è un paziente anziano che deve stare in ospedale il minimo tempo possibile poi è chiaro che va gestita la fase della dimissione che è quella più critica allora in quest'ottica il progetto è quello che noi stiamo facendo nel nostro ospedale è accompagnare il paziente in questa fase di transizione tra la fase acuta e la fase cronica con delle televisite con i caregiver questo fa sì che il paziente non si sente abbandonato e lo si possa accompagnare in quella fase vulnerabile che è quella invece in cui sono più alti i tassi di riospedalizzazione di questi pazienti ecco e quindi col digitale peraltro oggi si possono anche si può arrivare alle cure personalizzate quelle molto verticali per arrivare ad una precisione diagnostica ed efficacia dei trattamenti che non era pensabile sino a tempo fa Giuseppe Petrella mi ha perfettamente ragione oggi attraverso queste tecnologie che sono molteplici dall'intelligenza artificiale la ebinga data al fascicolo sanitario elettronico la ricetta elettronica e anche ad altre strumentazioni tecnologiche si può arrivare effettivamente a una medicina della persona una medicina per me una medicina per lei per chiunque di noi chiaramente ci vorrà ancora un po' di tempo però si è visto specialmente nell'ultimo periodo che quelli che saranno sviluppi queste tecnologie sono inimmaginabili fino a quello che era valido due anni fa oggi non è più valido e quello che è valido oggi molto probabilmente fra un mese ci saranno altri cambiamenti c'è uno studio della Sanford University sull'intelligenza artificiale per la vita proiettata fino al 2030 e ha dimostrato che l'intelligenza artificiale nel settore della sanità sarà di importanza fondamentale e sarà inimmaginabile dove potremmo arrivare quindi indubbiamente sono stati fatti tantissimi progressi ma ci sono da fare ancora tanti altri per arrivare alle cure personalizzate bisogna passare attraverso i dati perché ovviamente la tecnologia al fine di verticalizzare deve conoscere deve sapere chi siamo fino ad arrivare ai dettagli e fino a un po' di tempo fa questi dati erano sparsi erano dati amministrativi un po' persi in mezzo alla pubblica amministrazione alla sanità e adesso finalmente è stato lanciato il nuovo fascicolo elettronico digitale nel quale Mauro Moruzzi non a caso e qui ha contribuito molto e lì credo sia il punto di partenza della grande trasformazione anche in cui il dato viene messo insieme magari adesso ci aiuta a capire come e diventa da amministrativo a clinico cioè cosa sta succedendo e cos'è cambiato e cosa cambierà grazie al fascicolo digitale elettronico ma è un'autentica rivoluzione scientifica il sottosegretario Butti ha parlato di cambio di paradigma utilizzando un'espressione del grande filosofo Thomas Kuhn del 1962 è vero siamo passati dal dato amministrativo al dato clinico siamo passati dal dato della signora organizzazione che ci dice quanto ha speso come è organizzata al dato della signora persona che ti dice qual è la sofferenza lo stato di salute del corpo ed elementi di tutti gli italiani per la prima volta avremo i dati clinici di tutti i 60 milioni di italiani saremo tra i primi paesi in Europa ad averlo e quindi a popolare anche quello che è già stato previsto lo spazio europeo dei dati di salute un potenziale enorme che se lo leghiamo all'economia della distanza che diventa anche sanità della distanza come la dottoressa ha ben detto perché ormai viviamo tutti nell'economia della distanza beh è destinato a un cambio radicale del modo di intendere la sanità nel nostro paese con enormi potenzialità il fascicolo sanitario elettronico offre questa opportunità e siamo veramente ormai alla fine del percorso a raggiungere questo grande traguardo dal punto di vista economico visto che i costi della sanità sono qualcosa di importante lei ne ha parlato più volte in varie occasioni Paolo Nucci anche nel suo libro pensa che tutto questo possa aiutare a risparmiare e ottimizzare i costi sicuramente sì come dicevamo Ruzzi prima noi arriviamo per primi anche se eravamo gli ultimi da un punto di vista epidemiologico l'Italia è sempre stata ultima nella disponibilità di dati e conoscere i dati e conoscere i numeri e conoscere i costi è fondamentale dal punto di vista della possibilità delle difficoltà economiche noi siamo su una strada importante che è quella del riconoscimento dei biomarker noi dobbiamo implementare l'utilizzo di elementi che ci permettano di capire chi e quando e dove deve fare un controllo e l'altro aspetto che è molto importante che dobbiamo dimenticare la dottoressa è stata brava a dirlo la prima cosa che chiede il paziente quando entra in un ospedale è uscirne il prima possibile l'ospedale non è un luogo dove si sta con piacere quindi se noi riusciamo ad allontanare il paziente dall'ospedale utilizzare sempre di più questi biomarker mi permetto di includere tra i problemi che ci sono quello della obsolescenza di queste tecnologie che come vedete si superano di mese in mese oramai io ricordo di avere comprato cinque anni fa un OCT un Optical Coherence Tomography oggi quell'OCT è quasi inservibile perché ce ne sono di gran lunga migliori questo è un costo rilevante e dal punto di vista di appunto tenerli meno possibile c'è credo la telemedicina che può aiutare a che punto siamo? allora sicuramente un tema importante è la alfabetizzazione informatica del paziente nel senso che il paziente deve essere in grado di saper fruire di questo servizio quindi noi abbiamo impostato questo progetto di telemedicina nei pazienti scompensati perché i pazienti scompensati perché lo scompenso è una delle prime cause di morte in Italia e perché tra le prime cause di ospedalizzazione la prima causa di ospedalizzazione nei pazienti over 65 anni nel 2020 abbiamo speso 430 milioni di euro per pazienti scompensati che hanno una spesa annua di 11 mila euro un ricovero per scompenso negli Stati Uniti costa più o meno 30 mila dollari il paziente che si ricovera ha un rischio di mortalità del 7% intra ospedaliero del 17% a 30 giorni e morirà nel 50% dei casi a 5 anni quindi la sfida è cercare di intervenire su una patologia grave che grava la qualità di vita del paziente la salute del paziente l'economia e anche la mortalità allora poiché il paziente che ha scompenso è quello che noi chiamiamo frequent flyer cioè un paziente che tende a tornare e torna soprattutto nei primi 30 giorni della dimissione allora noi dobbiamo agire in quella fase stiamo parlando però di pazienti più anziani ovviamente quindi con tutte le difficoltà di non essere dei nativi digitali allora l'ospedalizzazione può essere un'opportunità anche in questo cioè fare formazione dei pazienti ai caregiver durante il ricovero che dura più o meno dai 7 ai 10 giorni in media e quindi sfruttare quell'ospedalizzazione per dare gli strumenti per poter accedere a questo servizio e poi abbiamo a disposizione dei dispositivi che sono pacemaker defibrillatori che vengono impiantati per un motivo clinico quindi il paziente che impianta un defibrillatore però potrà essere monitorato in remoto cioè non c'è più bisogno che questo paziente si presenti nei controlli ambulatoriali stiamo parlando di gente di 80 85 90 anni possiamo sorvegliare in remoto non solo il funzionamento del dispositivo quindi la batteria si sta scaricando dobbiamo cambiarla funziona bene che soglie ha possiamo fare una valutazione multiparametrica di questo paziente come sta quel paziente quindi gli atti del respiro la frequenza cardiaca quanta attività fisica fa lo monitoriamo e possiamo quindi richiamare quel paziente se c'è uno score che viene superato ci sta indicando che il paziente sta prendendo una china discendente allora il paziente viene richiamato si riottimizza la terapia e in molti casi si può prevenire un re-ricovero che sarebbe invece inevitabile qualora non si intervenisse precocemente parlava di alfabetizzazione ma in realtà mi faccia fare l'avvocato del diavolo pur essendo un grande fautore tribuno della digitale dell'alfabetizzazione ma in fondo non dovrebbe bastare un bottone cioè a volte non dovrebbe essere più usabile di quello che è oppure è sufficientemente usabile bisogna veramente alfabetizzarli noi abbiamo a che fare con pazienti comunque anziani e grandi anziani quindi per loro può essere un problema anche solo fare la televisita quindi noi li forniamo forniamo certo la televisita perché devi avere il computer eccetera ma magari su alcuni dispositivi della pressione schiacci no? dovrebbe essere così sulla pressione sì dopo di che i dati vanno inviati però ci sono dei dispositivi che noi impiantiamo e in cui il paziente non deve fare nulla ha un modem che attiverà in camera da letto per lo più e automaticamente ogni notte tutti i dati di questo dispositivo che lui ha impiantato vengono trasmessi ci sarà poi qualcuno ovviamente che dovrà valutare tutti gli allarmi che sono che sono stati poi trasmessi e quindi c'è poi quella fase dei sanitari e lì dobbiamo secondo me lavorarci ed a proposito infatti mi viene mi viene da girarmi subito verso Massimo Moruzzi perché effettivamente appena sento parlare di dati dico oh però li stiamo gestendo bene tutto bene cosa si potrebbe migliorare cosa stiamo migliorando ma avremo un cantiere di dati veramente eccezionali potremo estrarre con i nuovi standard da tutti i documenti elettronici quelli che i pdf che conosciamo tutti i dati quindi non ho solo un pdf una fotografia dei miei esami del sangue posso estrarre il colesterolo la crisi femminina tutto posso fare un diagramma dei prossimi dieci anni in un modo completamente di nuovo e questo ci darà la possibilità di una grande personalizzazione della cura che è anche un elemento di grande efficienza e soprattutto come la dottoressa diceva non abbiamo più bisogno di tenere i pazienti chiusi in ospedale guardate in un libro molto bello che usì tempo fa di Foucault sulla storia della clinica lui disse perché è nata la clinica all'inizio del novecento per poter tenere fermo un paziente in un letto e avere tutti i suoi dati non è più necessario non serve più la clinica la clinica servirà per fare brevi interventi di alta tecnologia chirurgica eccetera potremmo monitorare certamente il paziente avendo tutti i dati dei pazienti la gestione di questi dati è una cosa molto complessa perché dovremmo rispettare rigorosamente le regole della privacy avere tutti i dati dei clinici degli italiani è una responsabilità enorme perché sapremo tutto del loro corpo delle loro menti delle loro sofferenze da questo punto di vista posso assicurare che il progetto che stiamo realizzando ha messo al primo punto la garanzia della sicurezza del fascicolo sanitario esatto il fascicolo sanitario vogliamo che il cittadino sia garantito non all'ottanta al cento per cento e su questo ci siamo impegnati ma nello stesso tempo vogliamo che il medico possa avere con il suo consenso tutti i dati per aprire veramente una nuova storia della personalizzazione della cura e della presa in carico dei cronici dopo i 50 anni cominciamo a avere la prima malattia cronica e via via le sommiamo nel corso del tempo guardate la gente vive 20 anni di più che senso ha vivere male bisogna vivere bene e questa è la grande occasione ci piace mentre parlava vedevo vedevo Giuseppe Pettrella che affascina dei sì e anche dei no e allora sono curioso di vedere dal suo punto di vista assolutamente sono d'accordissimo con quello che ha detto il professor Moruzzi che conosco da tanti anni e so quando si è bravo in questo settore come in altri assolutamente dobbiamo capire che con tutte le tecnologie comunque existenti alla fine ci sembra la centralità dell'uomo questo non lo dobbiamo dimenticare assolutamente perché per qualsiasi diagnosi pura più precisa possibile alla fine lui come chirurgo oculista io come chirurgo oncologo decido io in quel momento qual è la cosa migliore per quel paziente quindi non dobbiamo dimenticarci questo oggi esiste come ha detto lei prima la chirurgia robotica oggi con la chirurgia robotica si fanno gli interventi incredibili io che ho una certa età che ho attraversato tutta la storia della chirurgia posso dire che mai avrei immaginato una cosa del genere con quei bracci comandati da remoto si opera a livello millimetrico e come un collega oculista sa come un millimetro importante nella chirurgia nella cardiochirurgia nella neurochirurgia o nell'urologia è importante il cancro della prostata prima quando si asportava oltre il 90% dei pazienti non aveva più la possibilità erettile ok quello che si dice in potenza coeundi oggi con i robot si va a livello millimetrico e praticamente questa complessità diciamo è scomparsa quindi benvenuto vorrei aggiungere una cosa che è possibile a quello che aveva detto il collega sull'economicità mi trovo perfettamente d'accordo è stato calcolato uno studio importante che stessi adottassero tutte queste tecnologie in cui abbiamo parlato il biglato l'intelligenza artificiale il fascicolo sanitario elettronico si avrebbe un risparmio di 12 miliardi e 5 e solo con la ricettazione e la professione Maurizio può darsi dell'atto il stato studiale si risparmiano 2 miliardi questi miliardi potrebbero essere reinvestiti nuovamente nel far aumentare tecnologie ci sono da un punto di vista economico oppure delle situazioni si possono migliorare oggi per esempio ci sono il partenariato pubblico privato che permette di fare acquisizioni che un'altra fino a 10 anni fa non si potrebbero fare ci sono a livello europeo i fondi da andare a cercare cioè c'è però come ha detto giustamente ieri la corte dei conti bisognerebbe investire molto più in sanità perché la sanità non è retorica è la prima cosa come diceva per vivere felici o per vivere felici forse un termine improprio per vivere bene per vivere tranquilli devi stare bene quindi investiamo quello che io dico in sanità e investimento a volte significa anche formazione allora Paolo Nucci come si è messo dal punto di vista della formazione dell'utilizzo di queste tecnologie piuttosto che in generale della nuova professione medica le nuove generazioni sicuramente e lo dico da anziano da 65 anni le nuove generazioni sono meglio di noi sono sicuramente più formati hanno una curiosità che probabilmente avevamo anche noi io me la sono dimenticata quella curiosità però questa curiosità io la vedo nei miei specializzanti che continuano ad andare in giro per trovare le cose nuove pochi giorni fa riportavano dei dati sulla possibilità che soltanto attraverso la fotografia di un occhio tu riesci a prevedere se quel paziente può avere che patologie e come gestirle in tempi brevi queste cose le sanno loro le vedono loro le respirano prima di noi quindi con i giovani io sono molto ottimista l'importante è che ci lasciano fare i medici noi fino a poco tempo fa facevamo solamente questo e stavamo abbastanza bene oggi invece purtroppo l'attività burocratica di un primario è diventata un'attività davvero significativa è vero che noi dobbiamo avere consapevolezza dei costi della sanità dobbiamo sapere gestire i fondi di fatto però non possiamo diventare dei ragionieri della medicina io mi rifiuto di pensare al medico come quello che deve far quadrare i conti il medico deve semplicemente pensare al suo paziente quel che è meglio per il paziente quindi questa perversione di essere dei risparmiatori o dei gatekeeper degli usceri del sistema a me non è mai andata e continua a non andarmi l'attività burocratica di un primario quale miglior domanda da fare ad un primario è così? allora sì però non dobbiamo dimenticare qual è il nostro il nostro lavoro e che cosa noi siamo chiamati a fare allora io penso ancora oggi che la medicina sia un'arte e che quello che dobbiamo fare è anche prenderci cura del paziente cioè noi non curiamo la patologia noi ci prendiamo cura di un paziente affinché quel paziente come si diceva viva bene viva in salute questo presuppone aspetti di cura del paziente una relazione umana che non può essere demandata ritornando a quello che dicevamo la differenza tra scegliere e decidere scegliere vuol dire che io ho elementi per dire faccio la strada o faccio la strada B e difficilmente in medicina noi scegliamo noi decidiamo che vuol dire che noi abbiamo degli elementi ma abbiamo anche un istinto abbiamo anche la nostra esperienza che fa sì che noi prendiamo una decisione sulla base di quello che in quel momento percepiamo allora questa cosa è qualcosa di irrinunciabile che deve fare un medico un primario che teoricamente ha un'anzianità e un'esperienza superiore a quella dei più giovani che sicuramente hanno risorse superiori ad esempio alla mia questo però è un governo che secondo me un primario deve garantire cioè la guida in quello che è il nostro lavoro è la nostra missione se non sbaglio il giuramento di Ippocrate c'è un passaggio in cui si dice il medico promette che si impegnerà a conservare la purezza della propria vita e della propria arte a proposito di arte però volevo ritornare al cittadino più che al paziente in generale che cosa succede il lato suo cioè con il nuovo fascicolo digitale elettronico cosa cambia nelle persone nelle tasche delle persone nella vita delle persone nell'organizzazione delle persone sta già cambiando il fascicolo sanitario elettronico è uno dei servizi che più interessa a tutte le famiglie italiane sta già cambiando lo stanno usando hanno imparato a usarlo dal periodo covid beh io vorrei farvi presente che quando parliamo di informatizzazione di accesso alle tecnologie digitali di uso di internet perché stiamo utilizzando internet ultima generazione di internet le famiglie sono all'avanguardia abbiamo 54 milioni di famiglie collegate ad internet 40 milioni sono sui social 40 milioni di persone in Italia sono sui social lo stanno utilizzando per comprare musiche per fare spese online dappertutto l'industria ha già scoperto che si produce con i beat e non con i natumi gli atomi fa un po' come fa l'America cioè produce il nostro iphone con i beat e poi l'asse che qualche distretto cinese lo costruisca con gli atomi la pubblica amministrazione è in realtà quella più indietro e la sanità è quella che ha avuto i maggiori problemi da questo punto di vista quindi è vero è utile abbiamo un grande programma di formazione abbiamo investito 300 milioni come PNR però le famiglie sono già su internet siamo già pronti a utilizzare internet anche per la sanità quindi non è assolutamente un problema dare il fascicolo il fascicolo non è la cartella clinica del medico è il fascicolo sanitario del cittadino e l'Europa l'ha riconosciuto anche nello spazio dei dati di salute europeo alimenterà le cartelle cliniche dei medici e permettetemi di fare una battuta qui bisogna veramente riscoprire la centralità del medico il grande sociologo Achille Adigò io ho avuto anche la fortuna di essere un suo allievo ha sempre detto una cosa guardate il sistema sanitario è fatto da due cose un paziente che soffre e un professionista che lo ascolta per risolvere questo problema le macchine stanno dietro le spalle questa è la realtà l'uomo davanti lo dico ogni volta sono un cyberumanista ho scritto un libro anche che si chiama cyberumanismo quindi proprio quello è al centro e mai meglio di così poteva toccare anche questa mia sensibilità Petrella cosa ne pensa di questo cioè dal punto di vista di un professionista di un medico cosa ne pensi io penso che questa è la strada giusta io mi sono sempre interessato di chirurgia oncologica quindi avere a che fare con un paziente che ha un tumore bisogna avere pure sapere usare un linguaggio dicendogli la verità facendogli capire le cose però in una maniera tale che il paziente poi collabori non devo agganciare però una cosa è quella del futuro quello che diceva prima il collega sui giovani cioè i giovani di oggi non è che hanno una marcia in più di noi più di una marcia ma perché perché hanno la possibilità di sfruttare queste tecnologie se noi vediamo oggi con l'intelligenza artificiale aumentata i giovani imparano a operare interventi difficilissimi penso che quando tu hai iniziato io ho iniziato ora facevamo sul cadavere ora dovevamo fare in corpo d'esamo aiutati da un maestro e insomma gli errori tra virgolette nessuno esente da errore vedete oggi un giorno lo prepariamo in questa maniera riguarda i pazienti e l'umanizzazione anche della sanità che è importante con l'intelligenza artificiale sempre aumentata si può fare in modo che quel paziente come diceva la collega che casolare deve essere ricoverato 20-30 giorni possa entrare nella propria casa a livello tridimensionale in 3D possa guardare i mobili gli amici i familiari e quindi anche da un punto di vista della depressione come tutti voi sapete dopo 8 giorni inizia una depressione notevole del paziente può diminuire notevolmente quindi vedete fascicolo sanitario elettronico intelligenza artificiale big data e tutto il resto faranno in modo che questa sanità migliore però ci vogliono i fondi io su questo ecco questo la tengo come domanda alla fine ma non perché voglio interrompere anzi adesso ci arriviamo siamo verso la fine il digitale Paolo Lucci è solamente positivo perché ovviamente qui parliamo di medicina e digitale è solo positivo o c'è qualche aspetto negativo in cui si può aggiustare qualcosa beh sicuramente sulle giovani generazioni non è così positivo non lo è per diverse ragioni io faccio l'oculista quindi un po' di cose le voglio condividere con voi il digitale quando lo vivi in maniera compulsiva come potrebbe fare un bambino che non ha freni diventa un po' una droga quindi è molto difficile riuscire a svezzare poi un bambino da quel tipo di interesse e quel tipo di interesse quando diventa compulsivo comporta due problematiche lavorare molto da vicino oggi noi sappiamo che è causa di miopizzazione si dice che nel 2050 noi avremmo un mondo al 50% di miopi è vero questo lo stiamo vedendo nei paesi orientali dove la scolarità e l'attività ravvicinata è abnorme passano più di 12 ore al giorno sui device sui libri e questo è un problema se tu a questi bambini togli il libro e dai un iPad dai uno strumento un device digitale la cosa peggiora anche perché in quel momento si ammicca di meno e noi lo sappiamo dei videoterminalisti chi lavora molte ore ai videoterminali ammicca di meno invece di ammiccare 15 volte ammiccano 6 volte questo significa che il film lacrimale diventa meno stabile e le dislacrimie diventeranno il problema del futuro per chi lavora ai device allora per chiudere ma questo non per farvi fretta anzi vi chiedo di approfondire ma noi siamo qui ormai è diventata quasi una tradizione di questo di questo programma siamo all'interno di un'istituzione certo questa si occupa prevalente di mente di digitale ma già che ci siamo volevo chiedere cosa che chiedo spesso ai nostri ospiti c'è un appello una domanda che si vuole fare non necessariamente a questo dipartimento ma alle istituzioni possono essere anche quelle europee per migliorare le cose allora volevo chiederne uno ad ognuno di voi inizio con con Roberta Rossini la mia proposta è quella di cambiare paradigma e fare un approccio bottom up e non top down cioè se dobbiamo aspettare di avere tutto pronto e poi partire rischiamo di non partire o partire male allora partiamo da modelli in cui si sono sperimentate delle nuove modalità partiamo da lì è chiaramente tutto da migliorare però da lì possiamo forse creare dei progetti diciamo più solidi e quindi partire dal basso cioè dall'esperienza e poi salire nel governo e nella progettazione più ampia e poi ricordiamoci che il numero deve essere un fine scusatemi deve essere uno strumento e non un fine questo secondo me è molto importante e quindi anche da un punto di vista culturale dobbiamo ricordarci che noi appunto che il paziente non è un numero non è una serie di numeri o di parametri ecco infatti prima ho interrotto Giuseppe Petrella perché stava proprio parlando di questo quindi c'era una sorta già di appello di budget allora le do la parola su questo tempo la ringrazio al di là del problema del budget un altro problema è quello che io mi sento se posso lanciarlo siamo qua a posto a fare questo è di maggiore collaborazione fra tutte le istituzioni io penso che se noi tra le varie istituzioni il dipartimento della trasformazione digitale il ministero della salute tra il ministro Schillaci il sottosegretario Butti si faccia un tavolo presso il ministero dove i maggiori esperti si possono riunire in maniera tale da accelerare e da superare anche quella burocrazia perché la burocrazia è quella che rovina tutto come ha detto il collega e come ha detto la collega cioè un primario è destinato solamente a stare lì a scrivere e non da più in sala operatoria se noi invece aumentiamo tutta questa trasformazione tecnologica però ci sta il tempo per farlo però ci vogliono anche i soldi mi auguro che i soldi arrivino in maniera tale da poter produrire più veloce ma Romolo si diceva sì nel frattempo e io sono curioso di sapere dietro questi sì cosa c'è ma guardi io lancio una provocazione dobbiamo liberare il medico del computer il medico deve avere più tempo per il paziente meno per il computer l'informatica è nata al servizio della burocrazia non vi ho dubbio questo è storicamente dimostrato fin dagli anni 60 serviva per controllare sostanzialmente non per raggiungere gli obiettivi che abbiamo stabilito adesso con la rivoluzione dei dati clinici così come il cittadino ha imparato a stare sui social senza doversi occupare del retrobottega nessuno si è mai posto il problema di cosa ci fosse nel retrobottega informatico di facebook così il medico non si deve più occupare del retrobottega dobbiamo metterlo in condizione di accedere così come già a calde le famiglie direttamente ai dati che gli servono per la continuità della cura e così dobbiamo fare per il cittadino che ovviamente non si va a leggere tutti i dati clinici che sono nel fascicolo ma ha una semplificazione di tutto questo e può contribuire anche con propri dati con c'è un tacuino lo sapete che nel fascicolo sanitario elettronico c'è un tacuino del cittadino dove può mettere dei propri dati e questi dati poi si confrontano anche con quelli del medico una grande semplificazione in senso umano umanistico direi sarà il futuro e allora non avremo più il rischio di introdurre della nuova burocrazia elettronica cose che non vogliamo assolutamente fare la burocrazia elettronica no è il male lo strato di burocrazia sopra lo strato digitale è il male ma siamo qui per cercare di chiedere di toglierlo in parte lo si sta già facendo vogliamo di più ultima domanda sempre inerente all'appello io ho trovato chi è l'assassino l'assassino è l'evasione fiscale è inutile parlare di risorse se noi non cominciamo ad entrare nel problema cronico di questo stato più che in ogni altro stato del mondo che è l'evasione fiscale le risorse per il nostro sistema non ci saranno c'era un articolo qualche tempo fa sul Lancet NHS is sick but treatable il sistema sanitario inglese è malato ma si può curare se i politici decidono di investire sul sistema sanitario nazionale per investire ci vogliono le risorse e noi sappiamo che l'Italia ha 73 miliardi di deficit legati alla mancanza di pagamento di tasse e quindi è quella la strategia facciamo pagare le tasse e sentiamoci colpevoli quando non paghiamo le tasse va bene allora grazie grazie davvero bisognerebbe parlare altre ore di questo e magari ne faremo altre chi lo sa a Roberta Rossini grazie a Mauro Moruzzi grazie a Paolo Nucci e grazie a Giuseppe Petrella noi ci vediamo come sempre settimana prossima per una nuova puntata di DINFO DORG DINFO 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 DINFO